ciao ragazzi bentornati una puntata speciale applicazioni per i volantini visto anche il periodo estivo in cui stiamo trascorrendo ma soprattutto vanno bene anche per tutto l'anno i volantini perché ormai fanno parte delle nostre vite diciamo shopping le vite dello shopping una volta erano tutti in formato cartaceo vi ricordate quando arrivavano ormai invece sono stati soppiantati da queste comodissime nello smartphone che ci tengono sempre informati su tutti i volantini ne ho prese 5 le migliori che ci sono disponibili faccio una classifica premiando sempre un'applicazione come sempre nelle rubriche che io faccio sulle applicazioni migliori parto dalla prima che mondo volantino un'applicazione interessante un rating 4 stelle abbastanza completa vedete fornisce un'anteprima di tutti i volantini in questa finestra sotto poi noi possiamo cliccare e scegliere quale vedere sicuramente graficamente quella un po' più indietro delle altre nel senso che un po' meno innovativa però è abbastanza efficace vabbè noi cerchiamo di aprire questo volantino dell'emisfero vediamo un po' come funziona te scorrere e ingrandire vabbè sono le solite raccomandazioni di turno adesso sta caricando il volantino non direi particolarmente veloce ma neanche lentissimo avete le pagine scorribili col pinch to zoom out senza nessun problema è un po' macchinoso un po' lento però comunque funziona anche il rendering delle pagine abbastanza veloce come anteprima possiamo poi sfogliare assolutamente anche pagina per pagina o avere una pubblicazione correlata di tutti i volantini diciamo simili a questo diciamo un'applicazione senza le infame nell'ode ci permette comunque di avere a disposizione tutti i volantini in anteprima qua un po' più lenta nel rendere nell'apertura delle pagine con un po' meno opzioni però per chi si vuole accontentare comunque il punto forte diciamo di questa applicazione che ha veramente tanti volantini che anche in altre applicazioni non ho trovato per il resto è un po' da migliorare promo qui un'applicazione già abbastanza completa sempre sullo stile volantini vedete l'apertura abbastanza diversa stile dove conviene tutti i volantini rendering abbastanza veloce graficamente diciamo discreto buona come definizione non è proprio il massimo però comunque è veloce e fornisce tantissimi volantini possiamo provare questo qua di lidl lo apriamo subito vedete c'è la possibilità anche qua del pitch in e out per lo zoom senza nessun tipo di problema si possono sfogliare le pagine vedete stile qui un po' stile libro vanno tutte insieme in avanti e tutte insieme c'è un qualche bannerino pubblicitario tutte insieme così diciamo pagina per pagina oppure possiamo anche qua poi ritagliare chiedere le notifiche salvare oppure aprire delle ulteriori opzioni in cui si può addirittura scaricare anche offline il volantino eccetera eccetera interessante la possibilità del ritaglio che fanno anche altre applicazioni come questa ma è anche interessante la possibilità di scaricare anche offline il volantino per poterlo poi vedere vedete comunque abbastanza veloce le offerte chiare ben visibili mi piace il discorso di avere delle offerte chiare ben visibili che possono essere comunque viste bene no dal punto di vista della grandezza a volte non c'è uno zoom magari adeguato detto questo le offerte vedete c'è la possibilità di andare poi nella categoria offerte del momento caricamento medio medio buono ci mette un pochino qua fa apparire tutte le offerte diciamo vedete il bronzo di amico cellulare la bicicletta insomma di ogni volantino di ogni catena la migliore offerta qua avete un honor 10 a 399 all'unie euro visto che ci passo se avete intenzione di prendere anche un galaxy a 6 abbiamo a 309 quindi comunque un iphone 7 anche 569 da medio comunque vedete le offerte poi c'è anche le carte fedeltà qua possiamo raggruppare tutte le nostre carte fedeltà quindi interessante come tipo di opzioni migliorabili dal punto di vista di rendi rendering grafico poi andiamo avanti volantino facile quando andiamo su quelle già un pochino più performante grafica molto più accurata molto più di la definizione molto più alta bella veloce completa questa già mi piace molto perché è più immediata nell'aprire le pagine qua nella sua home e soprattutto ha una grafica già più più dettagliata e anche molto più veloce vedete in out senza nessun problema lo zoom si può sfogliare una pagina alla volta senza nessun tipo di problema vedete ci sono tutti più poi per poter già fare l'ordine delle offerte o aprire e controllare offerta per offerta cosa ci interessa di più andiamo avanti qua c'è un menu di opzione panoramica pagine qua possiamo aprire la panoramica delle pagine da 1 da 2 3 da 4 a 5 da 6 a 7 da 8 a 9 da 10 a 11 12 insomma qua c'è veramente da sbizzarrirci per esempio se noi siamo interessati ai televisori dalla 6 alla 7 viene raggruppata tutta la categoria tv e noi qua possiamo tranquillamente aprire la panoramica dei televisori poi si sceglie insomma la tipologia di pagine che si vuole aprire e si va a vedere la pagina appunto interessata adesso qua devo chiudere la categoria comunque pinch in zoom tutto a posto diciamo un'applicazione che funziona bene buona la definizione abbastanza veloce una via di mezzo che sicuramente non resta migliorabile ma già a un livello sicuramente abbastanza interessante adesso andiamo avanti tiende o invece qua parliamo di un'applicazione molto completa una delle migliori in assoluto grande ottima direi la definizione di tutti i volantini molto veloce molto completa dal punto di vista delle opzioni vedete tantissimi volantini ma velocissima nel rendering apriamo questo sotto prezzi di un euro no questo non è un euro ma expert ecco vedete qua pinch in out senza problemi abbastanza veloce vedete subito fluido vedete la velocità di caricamento come cambia adesso qua c'è un banderino pubblicitario ci sta tutto e fa parte del gioco te ne vai grazie pinch in zoom out senza nessun tipo di problema vedete qua molto molto ben definita velocissima quasi istantanea fulmine l'ho trovata veramente molto molto interessante qua c'è la possibilità dei preferiti hai aggiunto un taglio alla lista quindi possiamo tagliare subito la lista oppure avere anche dei cataloghi correlati vedete senza nessun tipo di problema sempre nella tecnologia ci va a scegliere tutti i volantini che ci sono in circolazione che possono essere appunto fare il caso nostro da questa parte di qua ci sono le pagine quindi qua possono sfogliare pagina per pagina questa veramente completa direi un'applicazione che ha fatto dei passi in avanti da gigante veramente fatta bene graficamente veloce l'anteprima delle pagine qua sotto che mi piace molto e ti voglio andare qua nei telefoni tac sono subito dentro questa è veramente bella un po di un po di offerti ci sono vedete nel periodo estivo belli wiko anche l'enni 4 il k8 di lesi sui 119 euro vedo tante offertine mentre sfoglio che sono veramente interessante pensate qua abbiamo un 43 4k di asens 349 euro ma se volete farvi un giro a dare un'occhiatina ecco magari vi scaricate prima le applicazioni e poi andate a vedere il tutto ecco un'applicazione sicuramente molto interessante tendeo ha fatto veramente passi in avanti da gigante ottimizzatissima veloce ottima la grafica benissimo le opzioni anche qua la possibilità delle carte fedeltà poi pezzo forte finale dove conviene un po la mamma di tutte le applicazioni la prima nascere la più completa la più seguita sicuramente rendering fulmine grafica di altissima definizione su tutti i volantini un casino di opzioni cominciamo subito la conoscete già ne abbiamo parlato più volte di dove conviene ma le ultime aggiornamenti l'hanno migliorata ancora vedete qua ci sono tutti lei quindi per poter interrogare il prodotto ordinarlo eccetera eccetera velocissima dove conviene lo sappiamo anche se devo dire che tendeo praticamente se la gioca la pare come rendering oramai ha raggiunto i livelli di dove conviene in out del pinch to zoom non c'è nessun problema velocissimo se vogliamo un'anteprima delle pagine è stata per il ritaglio è stata una delle prima ad aggiungerlo vedi pagine dove conviene stato anche delle prima ad aggiungere questa funzione vedete tutte le pagine subito sullo schermo velocissimamente andiamo qua attacca andiamo qua attacca veramente molto veloce dal punto di vista opzionale anche dove conviene permette di trovare i negozi di tornare la mappa di avere gli shop alert quindi da avere le migliori offerte del momento le recenti o i nuovi alert vedete le offerte di qua le recenti insomma poi bisogna vedere quando sono disponibili le carte fedeltà aggiunte assolutamente anche qua le memo ritagliate aggiunte anche qua e tutte le categorie dei piccolo banner pubblicitario anche qua per esempio ipermercati vedete molto velocemente arriva l'estate iper e andiamo a vedere subito il volantino quello che mi interessa meglio un'applicazione di volantini e la velocità del rendering e le opzioni e quella è la definizione cioè quando sei veloce ad aprire sei ben definita e tantissime opzioni e soprattutto aggiornatissima sui volantini sono le 3 4 caratteristiche che devono fare l'immediatezza e la ricchezza di contenuti con una grafica interessante queste sono le ricette giuste e direi che dove conviene continuo a rimanere uno dei punti di riferimento è finita la puntata per quanto riguarda le migliori applicazioni dei volantini io premio a pari merito tiende dove conviene una volta avrei detto dove conviene senza ombra di dubbio ma devo dire che tiende ho fatto veramente dei passi in avanti da gigante è un'applicazione completa velocissima con un rendering veramente fulminio vedete tutte le categorie qua sopra non possiamo far finta di non vedere che ha veramente raggiunto la sorella magari un po' mulandolo un po' copiandolo per l'anteprima delle pagine cataloghi colorati la possibilità di tagliare la possibilità di avere le carte fedeltà insomma è veramente veloce guardate il bannerino pubblicitario c'è di là c'è di qua quindi io mi sento veramente di paragonarle praticamente alla pari senza nessun tipo di problematine dio e dove conviene per 4kitech è tutto grazie come sempre delle iscrizioni dei like alle prossime grazie come sempre